Ben trovati, siamo in compagnia di Mirto Campi, il sindaco del Comune di Fiumalbo, al quale consegniamo questo plico contenente 431 firme che sono state raccolte nella nostra piccola comunità allo scopo di cercare di mantenere ancora un po' nel nostro paese la permanenza delle nostre suore. Quindi a te sindaco questo plico preziosissimo perché è un risultato veramente incredibile e a questo punto a te il microfono per capire quelle che saranno le prossime tappe. Cosa pensi di fare? Io intanto Diego grazie perché ti sei fatto promotore di questa importante manifestazione, è un plebescito popolare qua insomma, siamo restato l'unico comune con ancora le suore e quindi per noi è un valore aggiunto. Cercheremo in qualche maniera di, così a botta calda, sto pensando magari di andare veramente nella casa madre delle selve di Maria di Galeazza consegnargli direttamente di mano, magari visto che sei stato il promotore, se facciamo anche il viaggio insieme non mi dispiacerebbe, ne approfitto e insomma vorrei andare veramente a fare una chiacchierata per quello che riguarda la raccolta firme, capire un attimino meglio la situazione se c'è da capire, cercare di convincere la priora generale, fare una chiacchierata quantomeno credo che sia doveroso per noi, per la popolazione per questo secolo di storie che abbiamo vissuto assieme. Quindi mi sento veramente quantomeno in dovere di proporti, di andare giù assieme presentare questa raccolta firme, 431 sono popolazioni di 1300 persone, sono veramente tante questo mi sento di farlo veramente in coscienza, quindi ti invito a venire con me giù direttamente a casa madre per cercare di fare questa chiacchierata, capire un po' se c'è qualche speranza o meno. Ma che dire, mi cogli piacevolmente di sorpresa nel senso che non pretendevo di meglio, io pensavo ad un invio per posta con una tonaletta invece addirittura mi dici andiamo giù, faremo il viaggio assieme, raccolgo il tuo invito, sarà veramente una cosa estremamente piacevole quindi faremo il viaggio, anzi a questo punto avranno anche modo di vederlo perché lo sai che se io viaggio e faccio qualcosa non posso non avere con me una telecamera, quindi vedremo un po', quindi benissimo, raccolgo l'invito e quindi nulla, a questo punto è solamente un'ulteriore piccola attesa, sospendiamoci qui, incrociamo le dita e vediamo, ce la metteremo tutta, grazie. Arrivederci, quindi vi faremo sapere. Vi faremo sapere, grazie.